Prove d'intesa tra il sindaco Foti e Dino Preziosi. Finite le 48 ore di riflessione che il primo cittadino si era concesso alla luce degli sviluppi politici emersi durante l'ultima seduta di Consiglio Comunale, la strategia è la seguente. Trovare un compromesso tra non cedere totalmente la città in mano all'opposizione e mantenere alcuni punti per Foti essenziali. Preziosi però è stato chiaro, con quella frase pronunciata nel suo intervento in risposta al sindaco, di discontinuità con il passato, il consigliere della svolta inizia da te ha volutamente chiesto a Foti di estromettere il senatore De Luca dalle sue decisioni. E questo è un aspetto della vicenda politica che porterà di nuovo l'Aula a riunirsi e discutere lunedì 19 settembre. L'altra faccia della medaglia invece è composta dalle possibilità di accordo che dissidenti e alcuni consiglieri di opposizione vogliono mettere in piedi. Almeno 12 consiglieri sono intenzionati a mettere la loro filma in calcio alla mozione di sfiducia. Stiamo parlando dei componenti dei due gruppi PD, Gianluca Festa, Giuseppe Negrone e Antonio Genovese per Davvero Democratici, Salvatore Cucciniello, Massimiliano Miro, Francesca Medugno e Gerardo Melillo per Democratici per il Cambiamento e della consigliera PD, Francesca Di Orio. A loro si unirebbero per il sì alla mozione di sfiducia i consiglieri d'opposizione UDC, Alberto Bilotta e Raffaele Pericolo, la consigliera indipendente Nalia Raci e Giancarlo Giordano Persell. Per Irpigna di base Carmine Montanile è più propenso a non appoggiare Foti. E siamo a quota 13 su 17. Dove prendere le altre quattro firme? E qui entrano in gioco gli incerti, sia della minoranza, come Monica Spiezzi e Nicola Battista, che della maggioranza, come Barbara Matic e Nicola Poppa, assenti alla seduta del 5 settembre. La conta sembra invece propendere per i sostenitori del sindaco, 14 in tutto, Livio Petitto, Ida Grella, Franco Russo, Giuseppe Giacobbe, Francesco D'Argenio, Adriana Percopo, Silvia Modeo, Lorenzo Tornatore, Enza Ambrosone, Mario Cucinello, Mafalda Galluccio per la maggioranza, Dino Preziosi, Mimmo Palumbo e Virgilio Cicalese per l'opposizione. Tre gli indecisi di cui sopra da convincere. Nel weekend il primo incontro tra i consiglieri intenzionati a far cadere Foti, Summit che si incroceranno con quelli dei sostenitori del sindaco.